Il primo tempo, 43 minuti, 20 secondi, 1 a 0 per il Milan, nel terbi con l'Inter, Lukaku, poi Barella, il colpo di tacco intercettato da Chessy, Skriniar, torna indietro, ricomincia da Defray, in avanti Barella, Brozovic, Lukaku, tutto di prima, si gira Lukaku, viene attaccato da Romagnoli e da Chessy, va a terra Lukaku che si arrabbia nei confronti dell'avversario, in particolare di Romagnoli, faccia a faccia, arriva Chessy a spingere Lukaku, si accendono gli animi del derby. Non è facile spostare Lukaku e qui in effetti ci ha messo più di una volta Romagnoli, è anche riscatto da qua, perché qui non ci può mai arrivare, vedi? Romagnoli va direttamente sull'uomo, calcio di punizione, Lukaku se la prende perché si è accorto che non aveva alcuna possibilità. Continuano, attenzione, continuano le scintille, adesso tra Ibrahimovic e Lukaku a distanza. Eccoli, eccoli, abbiamo visto anche il replay fornito dalla regia, continua Lukaku a discutere in maniera molto animata, sentiamo anche qualche parola cedilese. Sì, sì, allora, Ibrahimovic sta ridendo in faccia Lukaku che viene fermato e calmato dai suoi compagni, è difficile, è impossibile capire cosa abbia detto Ibrahimovic a Lukaku per farlo irritare tanto. L'abbiamo intuito, Alessandro. Arriva il giallo nei confronti di Ibrahimovic ma continuano le discussioni. Un derby che si è infiammato all'improvviso, era stato caratterizzato dal fair play fino a questo momento. Adesso anche Vidal si mette in mezzo, non ha un animo tranquillo il cileno, è un combattente, il guerriero di Antonio Conte, Lukaku. E' difficile che si arrabbi Lukaku, è come se dicesse ti aspetto, ne parliamo fuori, ne parliamo dopo. Guarda, in inglese gli ha detto non mi ridere in faccia, non mi ridere in faccia, c'è da dire che tra i due le storie erano un po' tese dai tempi del Manchester United. Allora, i due hanno giocato insieme nello United in una sola stagione, nel 2017-2018, ma intanto sentiamo Valeri. Testa a testa ravvicinato, l'avete visto, tra Lukaku e Ibrahimovic, ammoniti entrambi. Una stagione insieme allo United, soltanto sette volte in campo insieme, nessun gol, né dell'uno né dell'altro, nelle occasioni in cui hanno giocato insieme con la stessa maglia. Punizione di Kolarov, il colpo di testa è proprio di Ibrahimovic, va a terra che sì, prova Brozovic che sfiora un super goal. Grandissima conclusione di Brozovic, veramente coordinazione perfetta di un niente, Tataruciano era fuori. Finisce il primo tempo, continuano le discussioni, Lukaku ha infuriato, Lukaku ha infuriato, continua a discutere con gli avversari. Adesso guadagna, guadagna, l'uscita punta Ibrahimovic, guardate, Lukaku punta Zlatan Ibrahimovic che dice ci vediamo nel sottopassaggio. È una scena bruttissima, bruttissima, nervosismo alle stelle in questo derby che era filato liscio fino al quarantatresimo. Far arrabbiare Lukaku è rarissimo, difficilmente l'abbiamo visto così. Se l'ha presa per qualcosa che gli ha detto Ibrahimovic, qualcosa l'abbiamo intuita in inglese. Guardate Lukaku, all'entrata del sottopassaggio è difficile contenere Romelu Lukaku. Ibrahimovic è già sceso negli spogliatoi e ci auguriamo naturalmente il nostro auspicio.